Le persone non sono stressate perché hanno figli. Non è a causa del matrimonio, non è a causa della scuola di commercio, non è a causa del lavoro. Quindi non incolparti per la sofferenza di nessuno. Sono così, si sono allenati. Molti sono diventati dei veterani della sofferenza. Beh, dovresti avere questo tipo di libertà, non è così? Anche se vado all'inferno, viverò bene. Molti genitori in India si preoccupano per i figli, a proposito delle rette, 100.000, 200.000 rupie. Come dovrei pagare questo? Poi diventerò un mendicante. Cosa devo fare? Se fosse un mendicante, non ci sarebbero problemi con 100.000, 200.000 rupie. E poi hanno una vita tranquilla. I genitori dicono ai figli, ho una vita molto bella, mi diverto. E poi noi pensiamo, come fanno a vivere felici? Perché hanno così tante preoccupazioni per i figli. Cosa fanno? Come mai cadono? Perché prendono a calci qualcuno? E tutto il resto. Allora, come fanno ad avere comunque una vita tranquilla? I genitori. Sì, sì, continua. Come fanno comunque a divertirsi nella loro vita, preoccupandosi ancora per i figli? Alcuni genitori riescono a dimenticarsi dei propri figli per qualche tempo. Questo dà loro un po' di tregua. Tu sei qualcosa di speciale. Come ti chiami? Sanjana. Sanjana? Sanjana, voglio che osservi. Non solo i tuoi genitori. Semplicemente osserva le persone intorno a te. Guardali attentamente. Perché ho fatto solo questo nella mia vita, quando avevo la tua età. Semplicemente osservavo tutto. Non dicevo una parola al riguardo. Se osservi le persone, vedrai. Oggi stiamo creando un mondo. Bimbo significa che hanno... Sai? I problemi di pannolino. Adolescenti significa che hanno problemi di pubertà. Mezz'età significa che è una crisi. La vecchiaia, terribile. Dimmi una fase della vita che le persone si stiano godendo. Quelli che sono poveri soffrono perché sono poveri. Quelli che sono ricchi stanno soffrendo le tasse. Quelli che non sono istruiti soffrono perché non sono istruiti. Mettili a scuola. Enormi sofferenze. Questo è ciò che dicono. Tensione nelle scuole di commercio. E coloro che non sono sposati stanno soffrendo. Falli sposare. Vedi, non ho detto niente. Lo dicono loro. Niente figli stanno soffrendo. Dai loro figli una sofferenza costante. Come dici tu. Dimmi una dannata cosa che le persone non stiano soffrendo. Ogni cosa. Quindi qualcuno se ne esce con la filosofia alla vita e sofferenza. Quindi qualcuno se ne esce con una soluzione. Va bene soffrire. Se soffri molto qui andrai in un altro posto dove tutto è fantastico. Hai sentito parlare del paradiso? Non ci sei stata, vero? Il paradiso è il posto più fantastico. La ragione per cui soffriamo è che lì tutto è fantastico. Ma chiedo hai qualche prova che tu non sia già in paradiso e non stia rovinando tutto? Ci siete? Hai qualche prova che non sia già in paradiso e non ne faccia un disastro? Semplicemente esci a vedere. Penso che sembra il paradiso la scuola di commercio. Forse ne stai facendo un disastro. Guarda questo pianeta. Dall'esterno del sistema solare guarda questo pianeta. Tutti gli altri pianeti e il pianeta Terra. Sembra il paradiso? Quindi sei già atterrato in paradiso e ne fai un disastro assoluto. E ora vuoi andare in un altro paradiso perché hai fatto un disastro di questo. Quindi le persone non sono stressate perché hanno figli. Non hanno figli, sono continuamente infelici. I figli sono arrivati, piccoli sprizzi di gioia, il resto è solo lamentarsene. Quindi questo non è a causa dei figli, non è a causa del matrimonio, non è a causa della scuola di commercio, non è a causa del lavoro. È semplicemente perché gli esseri umani non hanno capito come gestire loro stessi. È tutto qui. Ovunque tu li metta, qualcosa. Dai loro ciò che vuoi, falli re, sono infelici anche lì. Sì. Sì o no? Le persone hanno raggiunto una posizione molto elevata. Ancora infelici o no? Quindi questo non è a causa di nessuna situazione. Certamente non a causa di una ragazza meravigliosa come te. Non hanno capito perché. Fin dal giorno in cui sono andati all'asilo erano concentrati chi è il primo, chi è il secondo, chi è il primo, chi è il secondo. Ieri sono andato nella mia scuola. Dopo 45 anni sono tornato nella mia scuola. Come ci si sente? Cosa ne pensi? Quindi ci sono andato e raccontavo appunto loro la mia esperienza della scuola. Quando andavo a scuola, conosci queste pagelle mensili? Quando arrivano queste pagelle, quando l'insegnante le dà, alcuni la guardano e si pavoneggiano perché sono i primi, i secondi e quant'altro. Alcuni sono seduti in un angolo e piangono perché non sono contenti dei voti che hanno ottenuto. Io non ho mai aperto le pagelle in tutta la mia scolarità. Quando me la davano, la prendevo e la davo mio padre. Lui esplodeva. Non riuscivo a capire perché. Solo per questo foglio. Non l'ho mai aperto perché pensavo che fosse una transazione tra il mio insegnante e lui. non mi interessava per niente. Quindi non me ne sono mai occupato, ma l'ho sempre visto. Mio padre è un uomo intelligente, ben istruito, ma lo disturbava. Per tre giorni esplodeva come un vulcano. Guardando questo foglio giallo, davano sempre un foglio di colore giallo. È ancora così? Quindi mi stupivo. Sta avendo un'esperienza vulcanica di tre giorni. La ragione per cui dico questo è che abbiamo fissato questo tipo di cose. Non possiamo cambiare l'intero sistema domani mattina, ma possiamo cambiare noi stessi. Come gestiamo questo? Non è così? Perché è così importante che tu debba essere davanti a qualcuno? Perché? Perché è così importante? Non è importante che la tua vita sia bella? Devi essere gioioso, devi essere meraviglioso, devi esplorare il tuo pieno potenziale. Questo è importante. O vuoi essere il migliore di qualcuno seduto accanto a te? Beh, se ciò che sta seduto accanto a te è un pezzo di sterco, sarai uno sterco un po' migliore. Sì? Non è così che la vita dovrebbe finire. quindi non incolparti per la sofferenza di nessuno. Sono così, si sono allenati. Molti sono diventati dei veterani della sofferenza perché si stanno acclimatando per andare all'inferno. Processo di acclimatazione. Vogliono rendere se stessi una sofferenza tale qui che anche se li butti in inferno sembrerà meraviglioso. non biasimarti mai per la infelicità di qualcuno, ok? Va bene. Cosa fare? È una scelta individuale. Sì o no? Le persone esterne, cosa possiamo fare? Cosa posso farti? Posso creare una situazione facile o una situazione difficile per te? La sofferenza è a far tuo, non è così? Sì o no? Soffrire è a far tuo. Puoi essere un figlio impegnativo per i tuoi genitori. Ti auguro di esserlo. Altrimenti diventeranno come il busy belebat. Devi essere un po' impegnativo per loro. Quindi che si godano la sfida o soffrono la sfida sta a loro. Sono va bene? perché ciò che vedo è che non importa quante disposizioni prendi. Quelli che soffrono in ogni caso soffrono, non è così? Guarda solo i paesi occidentali come esempio. Ciò che tutti sognano o che le persone nemmeno osano sognare qui, un cittadino americano medio ce l'ha. Pensi che scoppino tutti di gioia? Tutte le disposizioni sono state prese. Pensi che scoppino tutti di gioia? No, infelicità. Il 42% della popolazione sopra i 45 anni prende dei farmaci psichiatrici. Quindi questa di certo non è gioia. Anche la salute mentale non viene gestita. Perché il solo prendere delle disposizioni esterne non aggiusterà questa vita. È molto, molto importante che tu prenda delle disposizioni interiori per le quali anche se ti mandano all'inferno andrei con gioia. Hai sentito parlare di Gautama al Buddha? Hai sentito parlare di Buddha? Quando tutti parlavano di andare in paradiso, Gautama disse cosa andrei a fare in paradiso? Visto che dite che tutto è meraviglioso lì, cosa farei lì? Fatemi andare all'inferno. Siccome dite che tutti soffrono lì, fatemici andare a fare qualcosa, perché comunque non posso soffrire. Ho reso me stesso così, non posso soffrire, quindi fatemi andare all'inferno. Anche ora i testi buddhisti parlano di Buddha che sta negli inferi. Beh, dovresti avere questo tipo di libertà, non è così? Anche se vado all'inferno, viverò bene. Nessuno deve mandarmi in paradiso.